Il Festival Bellezza Interiori arriva alla sua terza edizione in programma nel weekend del 12 e 13 giugno, tra Como e Brunate alla riscoperta dei giardini nascosti attraverso un'ampia programmazione artistica. Ci saranno 20 giardini segreti da visitare che racchiudono un patrimonio ambientale, culturale e inestimabile. All'interno dei quali giardini ci saranno più di 70 eventi distribuiti nelle due giornate dell'evento. Questo Festival Bellezza Interiori ha voluto promuovere e sostenere i giovani artisti del territorio che sono anche già molto attivi nel panorama musicale, quindi cito Sofia Manvati che è una violinista molto giovane che ha vinto già molti premi e anche il trio di Gamonti. Poi ci sono alcuni maestri del conservatorio che gravitano qui a Como, cito il maestro Massimo Laura, chitarrista, Guido Boselli, Paolo Beschi e Chiara Zanisi. I protagonisti rimangono i giardini e i cortili di pregio conosciuti nelle precedenti edizioni ai quali si aggiungono sette nuovi luoghi. Gli eventi saranno realizzati nel rispetto delle norme anticontagio. Circa 80 volontari gestiranno i flussi dei visitatori per non creare assembramenti. Il festival è promosso dalla cooperativa sociale TICVA Economie Territoriali Inclusive. Lo promuove per il terzo anno alzando il livello di integrazione. Più giardini, più realtà sociali coinvolte a collaborare nei giardini, più realtà che lo sostengono. Quindi diventa sempre più un movimento che coinvolge tutta la città. Sul sito bellezzeinteriori.it è possibile trovare tutte le informazioni sul festival e le modalità di acquisto dei biglietti.